Ma tu tutti gli anni fai il 29 giugno e quest'anno fai il 28? Come mai? Ubi Maior, Minor Cessar Come mai il 29 c'è questo barbarus? Luca Sei imbucato? Sei imbucato È un intruso Roma è un amato e con lo sguardo già te capisce Si sei sincero Corcore Oggi abbiamo presentato questa iniziativa che è Roma Summer Fest è un'iniziativa che dura due mesi e che sostanzialmente accoglierà tutti i romani, i visitatori, i turisti, i curiosi per oltre 40 eventi di vari generi musicali per farli convivere in un ambiente che di fatto è un laboratorio di idee di produzione culturale, diciamo di genere musicale, teatrale, artistico Corre del Roma Roma è un paese Una stagione imperdibile di oltre 40 concerti e di tante tante novità, ospiti internazionali Ha chiamato Ringo Starr, ha detto che vuole suonare la batteria soltanto per cantare Bellissimo programma, ricco, vario, di grande qualità che si serince in un'estate in cui la musica la fa da padrona 28 giugno Sparagna, 29 giugno Barbarossa ma con Sparagna ospite con Fiorella Mannoia e tanti altri Sant'altro Mannarino Dovrebbe venire pure il Mannarino E pure Anna Foglietta Facciamo la pubblicità De Gregorio Poi il 6 Poi andiamo a trovare il 6 luglio Poi andiamo a trovare il 6 luglio 6 luglio Francesco De Gregorio Oggi è il compleanno Eh sì sì Hai chiamato Adesso lo chiamo Non lo disturba No, no, no Lo chiamo più tardi adesso Vi aspettiamo all'auditorio a ballare, a sentire e a godere questo bellissimo Roma Sommerfest